Riunione a Palazzo Carafa tra sindaci, parlamentari e consiglieri regionali per discutere le strategie di contrasto al piano paesaggistico regionale, pieno di vincoli che bloccherebbero anche i progetti già autorizzati. Vediamo. Non è una chiamata alle armi dal punto di vista politico, ma lo potrebbe diventare se gli interessi delle comunità verranno lesi. Esordisce così il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, che insieme a sindaci, parlamentari e consiglieri regionali nella sala del Consiglio Comunale di Lecce ha dato vita a un incontro per discutere i vincoli eccessivi del piano paesaggistico adottato dalla Regione Puglia in piena estate, il 2 agosto, a conclusione di un percorso cominciato nel 2007. Nella riunione, da cui potrebbe nascere nei prossimi giorni un documento, è stato lanciato un vero e proprio allarme perché in un periodo in cui il settore dell'edilizia bocchieggia, il piano rischia di diventare un'ulteriore tegola per le imprese. Il senso è, discutiamo del piano, noi non siamo a prioristicamente contro il piano, siamo contro la sua attuazione che fa scattare dei vincoli a nostro giudizio che danneggiano le possibilità di crescere di questo territorio immediatamente in una fase nella quale stiamo ancora costruendo le nostre osservazioni che servono, così come la legge regionale 20 del 2009 prescrive, che servono per migliorare il piano stesso. Le norme di salvaguardia non possono essere applicate a tutti i procedimenti, compresi quelli già autorizzati dalle amministrazioni, spiega Perrone. Per il sindaco il documento regionale nasce vecchio, si pensa di superare i problemi con i vincoli, ci sono troppe limitazioni che non tengono conto dei cambiamenti. Il piano regionale ha scatenato anche le critiche dell'Udc, il capogruppo regionale negro parla di un documento adottato senza ascoltare nessuno, in piena estate, con una cartografia difficilmente consultabile. L'effetto è che la gente che aveva un piano di lottizzazione già approvato si è vista bloccare tutto per via dei nuovi vincoli, che costringono a riavviare nuovamente tutto il procedimento. Perrone ha una linea più morbida rispetto ad alcuni consiglieri regionali e al presidente Gabellone, che chiedono la revoca del piano. La strategia di Perrone è quella di formulare una richiesta giovedì, nell'Assemblea Anci, perché quest'ultima possa intervenire nei confronti della regione, chiedendo una modifica del piano paesaggistico, nella parte in cui parla, di immediata operatività. Saverio Congedo ha precisato nel suo intervento che la posizione del PDL regionale è a favore di una revoca formale del provvedimento, per le eccessive incongruenze e per l'efficacia immediata delle norme di salvaguardia, che non possono essere ridotte con piccoli ritocchi, ma con un azzeramento e una ripartenza. Gli fa eco Andrea Caroppo, la proposta di modifica sarebbe impraticabile, spiega il consigliere della Puglia prima di tutto, prevedendo la normativa nazionale, la prevalenza delle norme di salvaguardia anche rispetto ai suddetti strumenti urbanistici vigenti e quindi l'impossibilità di aggirarle attraverso di essi, mentre la persistenza del piano richiede lunghi tempi di esame per migliaia di osservazioni che non potranno non pervenire e quindi un devastante rinvio sine die della ripresa delle attività. Ciò riduce le possibili soluzioni tampone ad una sola, che è la revoca formale del piano che consenta di lavorarci sopra senza bloccare un'intera economia, per di più in una fase estremamente critica come l'attuale.